Un saluto a tutti innanzitutto e con un ringraziamento al Centro Internazionale di Studi Gentiliani per ospitarci anche questa volta per questo incontro con i dottorandi, anche se ovviamente è un incontro virtuale, ma speriamo che la prossima volta possa essere invece un incontro in presenza e speriamo di poter venire di nuovo da voi e essere sul posto davvero a fare questo incontro. Detto questo io comincerei, abbiamo per l'inaugurazione un Alexio Gentiliana del professor Luigi Lacquet che è presidente del Centro Internazionale di Studi Gentiliani che questa volta sarà su usi e abusi dei classici alberico gentili nel fascismo. Non ho bisogno di presentare il professor Lacquet, lo conosciamo, un eminente storico del diritto e ha anche scritto dei lavori importanti sul periodo fascista. Quindi certamente ci farà un Alexio di alta qualità, di cui beneficeremo tutti. Questo incontro per i nostri dottorandi è un appuntamento che abbiamo dovuto saltare purtroppo l'anno scorso, ma abbiamo voluto riprenderlo anche se online perché è peccato perdere un contatto che abbiamo visto in passato estremamente utile. Certo quello che manca quando si fa un incontro virtuale è l'incontro dei dottorandi fra di loro. Ecco, questo purtroppo non possiamo assicurarlo, ma forse entrando in contatto su questo web a un certo momento potranno anche entrare in contatto fra di loro, vedono quali sono le tematiche e quindi può darsi che bilateralmente anche perlomeno riescano a entrare in contatto e a beneficiare di questo incontro anche sotto il profilo della loro presenza e della loro partecipazione. Quindi do la parola adesso al professor Luigi Lacquet, che ho già presentato, per la sua lezione, ringraziandolo fin d'ora di aver accettato di introdurre questo incontro, che è il decimo dei dottorandi. Di fratonda. Grazie presidente, grazie, la ringrazio molto. Con lei ringrazio la società, è davvero un piacere per me poter intervenire ancora una volta, anche se in questa formula necessitata virtuale, ma comunque è un'occasione appunto per non allentare i nostri legami che nel corso del tempo si sono rafforzati proprio attorno a questa vostra bella iniziativa. Ho sempre detto che questo incontro dei dottorandi della Sidi è davvero un modello di una comunità scientifica che si interessa ai propri giovani in formazione nella fase, diciamo forse decisiva, che è quella del dottorato e quindi per noi è un onore poter legare il centro e quindi Alberico Gentili al lavoro della vostra società, quindi ringrazio tutti voi, a partire dal presidente, gli amici e colleghi che animano in particolar modo questo incontro dei dottorandi, il mio caro amico Paolo Parchetti, ma poi Andrea Spagnolo, Giulio Bartolini, Pasquale De Sena, Roberto Storchi e molti altri che sono anche credo collegati con noi del direttivo. E come sapete in realtà questo incontro deve moltissimo, come sempre, ha l'impegno straordinario di Pepe Ragoni, quindi della nostra presidentissima onoraria, perché probabilmente senza il suo impegno e anche alcune sue sempre ottime intuizioni, questo legame, questo connubio tra San Ginesio, Alberico Gentili e la Sidi non è detto che avrebbe avuto lo stesso successo. Quindi mi fa piacere che questo decimo incontro continui su questa strada e mi unisca all'ospicio del presidente, sperando che quanto prima si possa ritornare alla forma in presenza. Venendo al nostro tema, io adesso userò un PowerPoint, penso che sia anche utile. Voglio iniziare rapidamente sul titolo, uso, usi e abusi dei classici. In ogni epoca c'è una rilettura dei classici. Praticamente ad ogni generazione si torna a leggere i classici con gli occhi inevitabilmente del presente, perché tutti noi siamo immersi in un'epoca determinata. e quindi ad ogni generazione ritorniamo a leggerli. Qui uso ovviamente, intendo, la nostra capacità di interrogare autori del passato che riteniamo ancora capaci di interrogarci, cioè di darci stimoli per la riflessione, non dico risposte per i problemi del presente, ma comunque stimoli utili alla riflessione. E quindi io do, tra virgolette, per scontato che Alberico Gentili sia un classico. E ovviamente lo dico, penso, avendo il consenso di chi mi ascolta, perché Alberico Gentili è oggi, direi più che mai, un classico. La storiografia negli ultimi 20-25 anni ha davvero cominciato a capire Alberico Gentili. La sua grandezza, il suo posto, diciamo così, nella storia del diritto internazionale e più in generale nella storia della cultura giuridica e politica europea, tra 5 e 600. E ovviamente il suo contributo così importante ha le fondazioni di quello che noi chiamiamo il diritto internazionale. E quindi, lo dico per i dottorandi, io do per scontato che più o meno si sappia che Alberico Gentili ha grandi linee. Forse la cosa che può subito incuriosire è il dato della biografia. È nato a San Ginesio nel 1552. E quindi è chiaro che la sua presenza nelle Marche è a San Ginesio. Ma è morto a Londra nel 1608. Quindi questo, come dire, apre qualche interrogativo. E perché è morto a Londra? Perché, come è noto, Gentili con il padre, Matteo, dal 1680, dall'estate del 1680, sbarca in Inghilterra, perché da un po' di tempo, da alcuni anni sta andando lungo l'Europa come esule, come si diceva allora, religionis causa. La famiglia Gentili, il padre in particolare, era già stato inquisito dall'inquisizione romana. Quindi, come dire, c'era un accerchiamento attorno loro e a un certo punto decidono che è meglio lasciare. E quindi lasciano San Ginesio. Sono una famiglia patrizia, è importante. Il padre lascia svariati figli, perché Alberico e Scipione non sono gli unici figli. Lascia la moglie, no? E quindi parte e arriva, non la faccio ovviamente lunga, e arriva in Inghilterra. E l'Inghilterra, nella quale Gentili si trova ad operare con difficoltà, perché è un esule italiano, quindi gli italiani sono, da un lato suscitano grandi interessi, perché la cultura italiana nella corte elisabettiana è molto apprezzata. La stessa regina Elisabetta studiava l'italiano, chiamava l'italiano. Però nello stesso tempo sono considerati un po' machiavellici, doppi, non si sa bene se qualcuno è una spia, perché sono venuti in Inghilterra. Insomma, sta di fatto che devono conquistarsi un loro spazio. E Gentili se lo conquista in maniera davvero straordinaria. Probabilmente è l'italiano esule che in quel periodo riesce a costruire la più importante posizione, potremmo dire, all'interno di questo contesto. E quindi passa esattamente metà della vita in Inghilterra. E in Inghilterra, quindi, significa poi incontrare tutte le sue opere. Qui, io mi limito, ovviamente, a ricordare le opere che ne fanno un classico del diritto internazionale, quindi dal Delegazionibus Libri Tres, che è la sua prima opera che nasce, tra l'altro, da un famosissimo caso dell'ambasciatore spagnolo Mendoza. l'Inghilterra si domandava, poiché era sospettato di aver fatto parte di un complotto, se fosse legittimata in qualche modo a punirlo oppure godesse di una immunità. Poi, naturalmente, a fine secolo, l'opera che gli dà la massima fama, poi nel corso del tempo, cioè il De Jurebelli, Libri Tres, ma non da sottovalutare, come dirò più avanti, il De Armis Romanis, Libri Duo, di fine secolo, e poi, continuando, un'opera che uscirà postuma e che nasce dall'attività di Alberico Gentili come avvocato della Spagna davanti alla corte dell'ammiraiato, che è uno dei luoghi più importanti di sviluppo, potremmo dire, della pratica del diritto internazionale. E, a seguito delle difese di Gentili, quando Gentili muore, muore nel 1608, nel testamento dice al fratello Scipione, che è il suo esecutore testamentario, gli dice distruggi tutti i manoscritti che ritengo incompleti, tranne questi libri di attività come avvocato, perché sono quelli più vicini al completamento. E effettivamente Scipione, per fortuna, non dà seguito a pieno titolo all'esecuzione testamentaria, perché non distrugge i manoscritti di Alberico Gentili, e però pubblica, invece, quest'opera. Tanto per dare un dato ai dottorandi, quando Gentili è avvocato alla corte dell'ammiraiato, quindi la più importante corte inglese del tempo, Grozio è avvocato presso la corte dell'ammiraiato in Olanda. E quindi riflettono negli stessi anni sui temi legati al mare, al commercio, alla navigazione, e Grozio pubblicherà nel 1609 Mare Liberum. Cioè siamo proprio dentro queste coordinate. Dicevo prima, Gentili ottiene una posizione molto importante, perché nel 1587 era stato nominato Regius Professor di diritto civile, quindi di Civil Law. E Gentili è, in quel periodo, quindi nell'età elisabettiana fino all'inizio dell'età Stuart, il più importante, potremmo dire, cultore della tradizione romanistica in Inghilterra. Ecco, questo, diciamo, personaggio possiamo rileggerlo, ecco allora il tema Usi e Abusi, perché come dicevo prima, noi siamo forse oggi un po' meno, siamo un po' più, abbiamo un apparato critico scientifico forse più solido, ma siamo comunque immersi nel nostro presente e come dire, rileggiamo il passato inevitabilmente con anche attraverso una lente che è quella delle questioni che ci riguardano. ecco, se dovessimo leggere Gentili in questa prospettiva individuerei tre contesti di rilettura di Gentili tra Otto e Novecento, quindi arriviamo anche più vicino a noi, e il primo contesto è quello della, quella che viene chiamata un po' la Renaissance, è ottocentesca, una sorta di risorgimento gentiliano, che deve parecchio a Thomas Eskin Holland, quindi siamo di nuovo a Oxford. Holland nel 1874 all'Old Souls College inizia a insegnare su un'altra cattera molto, molto prestigiosa oxfordiana, la Cici Licea of International Law and Diplomacy e siederà su questa cattera per 40 anni, quindi ovviamente giocando anche un'influenza sul piano anche dell'insegnamento e sceglie di inaugurare questo suo corso facendo una lezione su Gentili. Qual è il tema centrale di questa lezione? Qui è un po' la 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 fortuna per alcuni aspetti la sfortuna per altri e il costante confronto con Grozio. cioè se è lui il fondatore se è Grozio per quali ragioni eccetera l'analisi di Holland è piuttosto equilibrata diciamo che lui vuole dire che Gentili Oxfordiano e quindi ovviamente lo legge come un Oxfordiano grande professore è un precursore un po' misconosciuto è un po' finito sotto il cono d'ombra della personalità di Grozio da qui nascerà un incredibile movimento internazionale per erigere un monumento ad Alberico Gentili che vede l'istituto di Gant vede tutti gli internazionalisti europei è davvero una vicenda abbastanza straordinaria quali sono i paradigmi chiamerei politico-culturali che emergono da questa epoca uno è quello ovviamente del Gentili perseguitato c'è tutta una costellazione potremmo chiamare anticlericale che vuole vedere in Gentili una delle bandiere della del pensatore martire non è Giordano Bruno sapete Giordano Bruno in realtà incontra Gentili in Inghilterra quindi c'è anche questo legame ma tuttavia è come dicevo prima un esule religionis causa e quindi c'è tutta una pubblicistica a sfondo massonico tutta una serie di temi post risorgimentali però c'è anche un altro grande tema più internazionalistico e cioè Gentili come bandiera di un grande tema che comincia proprio in quegli anni a emergere che è quello dell'arbitrato internazionale perché perché come sapete dopo la guerra civile americana esplode la questione dell'Alabama cioè questa nave una delle navi che i confederati quindi i ribelli hanno armato in Inghilterra e l'Inghilterra non ha fatto molto per impedirglielo e poi hanno fatto un'attività di corsa facendo molti danni al naviglio dell'Unione e quindi diciamo ha lo Stato legittimo a livello dei rapporti internazionali per cui nasce una controversia che porta ai cosiddetti Alabama claims e alla fine gli Stati Uniti e la Gran Bretagna trovano un accordo in un trattato per dare vita ad un arbitrato che si svolge poi a Ginevra e dentro c'è anche un italiano Federico Sclopis e se uno legge la letteratura del periodo vede che il tema centrale l'istituto centrale del diritto internazionale è l'arbitrato cioè quest'idea che sia possibile evitare i conflitti attraverso forme arbitrali e quindi da lì comincia tutto un percorso della storia del diritto internazionale che ovviamente conoscete molto meglio di me il secondo contesto è quello invece del Gentili del primo novecento è un po' l'idea di prendere Gentili come bandiera apostolo della pace nell'età della guerra civile europea e siamo tra le conferenze dell'AIA e le tesi di Wilson nel 18-19 e la nascita della società delle nazioni ecco se uno segue il dibattito vede come Gentili viene almeno in Italia assunto un po' a simbolo di questa fase del diritto internazionale dentro questa fase c'è il famoso monumento a Gentili che non potete vedere quindi ho fatto come Maometto vi porto il monumento eretto nel 1908 e questi sono immagini ovviamente di San Ginesio quindi questo secondo periodo è anche il periodo che porta questa monumentalizzazione se uno vede il monumento vede che in fondo il tema centrale è la pace il tema di Gentili come colui che in qualche modo ha aperto questa questa via cioè il diritto internazionale come strumento di civiltà come strumento che mira anzitutto alla pace e arriviamo ecco al nostro discorso di oggi che sarà pure breve cioè Alberico Gentili il terzo contesto se dicevo l'Alberico Gentili del primo novecento è più centrato su appunto l'idea del delle convenzioni dell'Aia fino alla nascita e un po' forse alle illusioni della lega delle nazioni il terzo contesto è quello di Alberico Gentili nel fascismo e anche qui muoverei da un'altra vicenda un altro monumento io nel corso del tempo ho raccolto molto materiale sui monumenti al diritto internazionale cioè come il diritto internazionale viene come dire monumentalizzato attraverso i classici attraverso gli autori Gentili è uno di questi ovviamente da dove partiamo siamo nel 1923 e una di quelle figure che un po' caratterizzano questa riscoperta Gentiliana trotto il novecento cioè di quasi innamorati di Gentili che pensano che insomma occorre fare di più per lui e uno di questi è il Ceo Speranza penso non vi dica nulla non vi possa dire nulla è un ex onorevole è stato parlamentare liberale negli anni appunto del monumento a Gentili fino alla prima guerra mondiale ma c'è un dettaglio è il figlio di Giuseppe Speranza che è stato un personaggio risorgimentale che ha iniziato a studiare in una prospettiva io direi scientifica Alberico Gentili è uno dei primi dopo gli anni settanta a scrivere su Gentili allora che fa il figlio nel 23 comincia a muoversi per dare vita a un comitato organizzatore in genere questi monumenti nascono da un comitato quindi si cerca di metterci dentro i personaggi più in vista del del periodo e quindi cerca i fondi per farlo e chiede a Mussolini che siamo nel 23 quindi è da non molto capo del governo ma è anche ministro degli esteri come è noto Mussolini non è stato solo il capo del governo per lunghi periodi è stato anche ministro ad interim anche degli esteri e gli scrive dicendo Roma fonte prima in esausta di diritto non ha non ha ancora dopo tre secoli e mezzo un degno ricordo dell'autore di tante opere in signe il Deiurebelli il De Aromis Romanis quindi l'idea di speranza è che sì va bene il monumento a San Ginesio ma bisogna invece farglielo a Roma Mussolini come ministro degli esteri accetta di presiedere il comitato promotore delle onoranze tuttavia questo monumento a Gentili che si pensa di collocare presso la sapienza si rivela molto più complicato di quanto forse non potesse sembrare all'inizio c'è una disponibilità dell'autorità accademica in maniera particolare dell'allora rettore Giorgio Del Vecchio il filosofo del diritto ma ci si rende presto conto che come dire le condizioni specie tra il 25 e il 26 cominciano a cambiare perché cominciano a cambiare perché lo Stato italiano e la Chiesa e il Vaticano prima segretamente poi meno hanno iniziato quel percorso che porterà ai patti lateranensi del febbraio del 1929 e in una lettera il povero Alceo Speranza dice ma io credo che voi abbiate paura dell'osservatore dell'osservatore ovviamente romano quindi è evidente che non c'è posto a Roma per l'internazionalista protestante cioè per Gentili come come personaggio da collocare appunto con una targa monumentale presso la Sapienza la motivazione che viene adotta per diciamo alla fine respingere il dono di questo monumento è che Gentili non ha mai insegnato la Sapienza e quindi non c'è motivo per collocarlo in quella sede Speranza non demorde e alla fine nel 30 decide visto che la strada per Roma è chiusa decide di donare questo questa targa monumentale al Guff di Macerata dei Guff sono i gruppi universitari fascisti quindi è la principale organizzazione fascista degli studenti universitari quindi ce n'è una o più in ogni ovviamente in ogni sede e nel 30 c'è l'inaugurazione l'iscrizione che opera di Speranza è questa ad Alberico Gentili da San Ginesio glorioso seminatore di verità e di giustizia a garanzia del diritto umano sulle basi dell'uniquico e sum e dei principi di nazionalità auspicando nell'ora storica mondiale future vittorie della civiltà e questo è se qualcuno conosce la sede di giurisprudenza a Macerata sa che lungo il corridoio c'è questo grande perché è una grande targa in bronzo ovviamente non c'è più il riferimento ai guffe ma il monumento è questo Speranza in realtà non resta contento dell'inaugurazione tanto che non partecipa perché ritiene che i gruppi universitari non abbiano dato seguito un po' quelli che erano i patti cioè di far nascere a Macerata un centro dedicato allo studio di Gentili ma Speranza non manca in una nota di dire questo che Gentili è vicino al duce d'Italia che sparge oggi la semente della pace con giustizia negli accordi e trattati parziali nelle frequenti interviste chiarificatrici della politica che gli persegue siamo nei primi anni trenta e già la locuzione che viene utilizzata da Mussolini che diventa una delle parole d'ordine del regime è la pace con giustizia l'altro tema è quello appunto della semente della semina che abbiamo visto per Gentili seminatore di verità e di giustizia e negli anni trenta inizia un vero e proprio processo come dire di fascistizzazione di Gentili lo si comincia un po' a vestire in camicia nera quindi passiamo dal Gentili Wilsoniano al Gentili come si diceva allora genio della stirpe nelle celebrazioni del 1934 il fascismo ha puntato molto sul tema del primato italiano ovviamente la romanità ma più in generale i grandi italiani nel 34 il regime fascista lancia un programma potremmo dire di celebrare nelle regioni tutti i grandi italiani per le Marche ovviamente si 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 celebra Leopardi Raffaello e Gentili e perché perché Gentili si presta come dicevo molto bene a questo uso innanzitutto Gentili e la romanità non a caso è in questo periodo che viene richiamata all'attenzione un'opera che fino a quel momento non era stata particolarmente conosciuta di Gentili cioè De Armis Romanis ecco un'opera in realtà molto importante valetta assieme al Dei Urebelli è una riflessione molto interessante sul tema dell'impero sul tema della missione di Roma e attraverso l'uso della guerra quindi ritorna in auge e l'altro tema è ovviamente il primato italiano cioè Gentili prima di Grozio è Gentili il vero fondatore Grozio viene dopo non è un caso che a partecipare a queste celebrazioni siano tre importanti figure della cultura giuridica anche durante il fascismo Pietro Cogliolo che è un romanista civilista Arrigo Solmi che è uno storico del diritto e Pietro De Francisci che è probabilmente il più importante romanista di regime del tempo Arrigo Solmi anzi nell'ordine Pietro De Francisci e Arrigo Solmi saranno i due ministri di grazia e giustizia dopo Alfredo Rocco per tutti gli anni trenta cioè fino a Dino Grandi quindi fino al trentanove pronunciano i discorsi in cui appunto Gentili viene vestito alla romana è il teorico della pace ma appunto usando quella formula mussoliniana della pace con giustizia quindi nonne della pace a tutti i costi non della pace cristallizzata della pace con giustizia dire pace con giustizia significa in fondo legittimare la politica che il fascismo cerca di portare avanti dalla metà degli anni venti che è quella di un protagonismo sul piano internazionale dal patto di Locarno passando per il patto Brian Kellogg del ventotto e arrivando al patto dei quattro cioè l'idea che l'Italia finalmente fa parte del direttorio delle grandi potenze e che persegue una politica che da un lato vuole pacificare soprattutto in alcuni contesti dello scacchiere europeo internazionale ma con giustizia con giustizia poi in realtà significa secondo i criteri che animano la politica del fascismo ecco forse l'esempio più mariano potremmo dire di fascistizzazione c'è in una monografia sempre del 34 di un piccolo intellettuale locale Norberto Mancini Alberico Gentili un genio della stirpe in cui proprio ci stanno tutti i temi della fascistizzazione dicevamo siamo nel 34 e quelli sono anni ovviamente molto importanti e tra il 34 e il 35 entra nel vivo la vicenda della preparazione dell'attacco all'imperio all'imperio di Etiopia l'Italia in realtà prepara la possibilità appunto di attaccare l'Etiopia dal 32 sono iniziati gli studi preparatori e nel 34 ci sono delle scaramucce alle frontiere l'Etiopia è tra la Somalia e l'Eritrea cioè le due colonie italiane nel corno d'Africa e la campagna militare inizia il 3 ottobre del 1935 in questa vicenda gioca un ruolo diciamo significativo come è noto la società delle nazioni prima che inizi la campagna quindi con minacce di sanzioni e poi invece il 18 novembre del 35 con l'emanazione delle sanzioni economiche è la prima volta che la società delle nazioni applica delle sanzioni a uno stato membro sono le sanzioni sono approvate contro l'Italia da 50 stati ricordo che l'Etiopia fa parte della società delle nazioni cioè è uno dei pochi stati africani potremmo dire indipendenti cioè non colonizzati e in quel periodo ovviamente c'è un grande dibattito su la legittimità o meno delle sanzioni e l'Italia poi nel 37 abbandonerà la società delle nazioni come è noto a seguito delle sanzioni inizia l'autarchia quindi tutta una serie di politiche che alcune ci fanno oggi sorridere ma per come poi sono andate le cose forse ci fanno sorridere un po' di meno e nella pubblicistica del tempo naturalmente viene costruito un apparato di argomenti per appunto dire a basso le sanzioni l'Italia si sostiene in realtà è stata vittima di un'aggressione le garanzie fornite dal patto non sono applicabili a favore dell'Etiopia l'Etiopia non è un paese civile c'è tutto un 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 dibattito sul sul fatto che appunto è un paese barbaro che legittima la schiavitù ancora e quindi l'Italia in realtà svolge una grande missione civilizzatrice tra l'altro nel diritto internazionale del tempo molto si dibatte si discute anche sulla natura della conquista dell'Etiopia per esempio Santi Romano userà la categoria della Debellazio per altri quella dell'occupazione e così via quindi è un tema al centro ovviamente di gran parte del dibattito ecco qui me la cavo facendo un rinvio chi fosse interessato potrebbe leggere con profitto ecco un saggio abbastanza recente perché è del 2012 dell'amico Giulio Bartolini appunto sull'impatto del fascismo sulla dottrina italiana di diritto internazionale cioè lui si interroga se sia esistita una dottrina fascista di diritto internazionale quali ne siano stati come dire gli autori principali e quali temi abbiano in qualche modo alimentato questa questa riflessione ecco questo discorso rapido su Gentili nel fascismo ovviamente si inserisce dentro questa cornice anche se appunto qui il richiamo a Gentili è il richiamo come dicevo un po' se vogliamo di superficie ad una bandiera a una sorta di bandiera che deve coprire talune talune questioni e come dicevo se uno legge per esempio il Gentili in camicia nera di Norberto Bancini trova esattamente tutti i luoghi comuni che caratterizzano il dibattito di di quegli anni la missione civilizzatrice dell'Italia il fatto che le grandi potenze e in maniera particolare la Gran Bretagna che hanno partecipato da tempo al banchetto coloniale quindi c'è questo tema le grandi potenze hanno fatto quello che volevano hanno conquistato i loro territori e adesso impediscono all'Italia che è la nazione proletaria che ha un surplus di popolazione che ha bisogno delle colonie ecco ora ci impedisce di fare quello che il Duce ha fatto conducendo l'Italia alla costruzione dell'impero quindi diciamo tutti tutti i luoghi comuni compreso quello che fa giudicare la società delle nazioni ovviamente come un organo assolutamente parziale che non assicura giustizia e che dice Mancini è diventato lo zimbello della mostruosa plutocrazia del maxismo che lavora da tempo per scatenare la rivoluzione bolshevica mondiale quindi siamo a come dire ricostruzioni che però appunto si inseriscono dentro quel tracciato ecco per concludere vorrei segnalare una vicenda abbastanza curiosa a seguito delle sanzioni dicevo la data è il 18 novembre del 35 il Gran Consiglio del Fascismo decide di far collocare in tutti i comuni italiani quindi presso tutti i comuni italiani una targa quindi ritorniamo al tema della targa con questo testo il testo proprio è quello utilizzato dal Gran Consiglio del Fascismo al ricordo dell'assedio perché resti documentata nei secoli l'enorme ingiustizia consumata contro l'Italia alla quale tanto deve la civiltà di tutti i continenti è una sintesi di un tema di un argomento l'Italia è stata vittima di una intollerabile ingiustizia l'Italia come grande paese civilizzatore di queste targhe qualcuna è rimasta con questo testo io ne ho viste più di una ne ho viste di persona ovviamente non ci sono più i fasci laterali perché erano tutte identiche però se uno vede insomma un po' la fantasia poi del riuso vede che alcune di queste per esempio questa è stata come vedete scalpellata quindi si capisce che è quella ma non diciamo se uno non lo sa non legge più il testo quindi è un tipico caso di abrasione però è molto interessante invece l'uso che ne viene fatto per esempio in questo comune Pozzallo la targa viene riciclata e viene riutilizzata per diciamo celebrare la memoria di un resistente oppure molto diverso questo comune consacrato al cuore immacolato di Maria quindi siamo verso un altro un altro estremo ecco vorrei concludere proprio a proposito di memoria di monumenti con un così una riflessione una riflessione che ci deriva da un testo del 36 quindi nel periodo appena ricordato prima dicevo che le celebrazioni gentiliane del 34 furono solenni importanti cioè venne il ministro della giustizia a fare il suo discorso ci furono altri personaggi di primo piano a celebrare Alberico Gentili questi scritti questi discorsi celebrativi vengono raccolti e nel 36 vengono pubblicati diciamo il curatore di questa raccolta è Amedeo Giannini Amedeo Giannini che oltre a essere il padre di Massimo Severo Giannini è è stato un personaggio eh abbastanza eh rilevante uno dei fondatori dell'istituto orientale eh ha fatto parte del contenzioso eh della Farnesina eh ministro eh plenipotenziario eh consigliere di Stato storico dei trattati internazionali insomma eh non certo un personaggio eh marginale e eh dice questo eh pubblica questi discorsi celebrativi con una sua introduzione eh e scrive questo passaggio che conclusivamente leggo con voi San Ginesio ha elevato un monumento alla memoria del suo grande figlio ma un monumento assai più cospicuo Giova confessarlo francamente gli è stato elevato dalla fondazione Carnegie la quale per iniziativa di James Scott Brown cioè come sapete un importante internazionalista eh americano del periodo ha ripubblicato nella magnifica collana dei classici del diritto internazionale le tre maggiori opere del Gentili con una riproduzione fotografica del testo latino delle opere una traduzione inglese delle medesime e notevoli introduzioni apparato critico dico più cospicuo questo monumento perché grazie ad esso le opere del Gentili possono essere agevolmente lette nel testo originale nella traduzione accuratissima in una delle più diffuse lingue del mondo forse Giannini dice questo appunto anche in una prospettiva come dire di diffusione nazionalista del pensiero di Alberico Gentili ma coglie esattamente il tema cioè che il monumento più bello per far conoscere in questo caso un classico come Gentili è fare edizioni edizioni critiche riproporno alla lettura tradurlo ed è del nostro piccolo anche una delle missioni del centro studi San Ginesino che cerca di mantenere accesa questa fiamma attorno ad Alberico Gentili grazie e buon lavoro e ai dottorandi che saranno un po' tesi perché immagino che vivranno comunque questa esperienza un po' come un esame di fronte a studiosi di primo piano comunque grazie e ancora una volta grazie per questa occasione grazie per la